Ciao, mi chiamo Ieri Ghidone e tre anni fa ho scelto di vivere senza una fissa dimora. In realtà una dimora ce l'ho, però non è fissa, è su ruote. Questa. Io ho scelto di vivere in camper. Amo il mare, ma preferisco la montagna. Sono nato a Torino 27 anni fa e di questi 27 gli ultimi tre li ho passati in questo camper. Ben scioglie. Non parlo del fine settimana o tempo libero, parlo di tutto il tempo. Sherry, che ne pensi di questa situazione? Cosa ne pensi? Che te frega, è l'importante star fuori, no? Forse qualcuno di voi mi avrà conosciuto grazie al mio canale YouTube, sul quale posto i video che giro e monto io, che parlano della mia vita e della mia casa. Questa qua. C'è tutto quello che mi serve, anche se piccolo. Perché la cosa più importante per me è sentirmi un tutt'uno con la natura. Incontrare dei caprioli, fare legna, bermi una birra davanti al fuoco e a un tramonto a 2000 metri. E anche restare bloccato in mezzo alla neve. In una parola, sentirmi libero. Vabbè, sono due parole, ma fa niente. Vabbè, sono due parole, ma fa niente.